Sono Maurizio Gennaro, il presidente dell'Aeroclub Vercelli. L'Aeroclub Vercelli è nato nel 1956, mentre l'aeroporto è in funzione del 1928. Dal 1956 a oggi l'Aeroclub Vercelli ha operato ininterrottamente nell'ambito sia didattico che volo da turismo. Dagli anni 90 l'Aeroclub Vercelli è stato certificato per il conseguimento delle licenze professionali. Dal 2014 con l'evento delle nuove normative europee di EASA è diventata la scuola certificata numero 10 in Italia per tutti i tipi di licenze. Pilota privato, pilota di linea, abilitazione strumentale, pilota commerciale. Oltre alla scuola professionale l'Aeroclub Vercelli ha anche la scuola WDS per chi vuole volare solo per diventimento a basso costo. Abbiamo due aeroplani per la scuola WDS che sono questo e un gemello. Abbiamo quattro aeroplani per la scuola privato commerciale con dei monomotori Piper e un bimotore Piper. L'attività di volo si svolge tutta la settimana dal martedì alla domenica a tempo pieno. Attualmente abbiamo circa 38 allievi in istruzione nelle varie fasi di addestramento. L'aeroporto è limitato a una pista da 600 metri in erba e questo limita un po' le attività nei periodi invernali. Speriamo nel futuro di poter avere una pista un po' più lunga e magari asfaltata. Questo ci darebbe la possibilità di crescere sia come aeroporto nei voli turistici sia come attività didattica.